SIGNIORI E SIGNIORI Non accadrà. Quanto mi costerebbe il controllo della TWA? Vuoi comprare la linea aerea? Perché lasciare che siano gli altri a divertirsi? Howard, sei proprio pazzo. Ho sentito voci infietanti su Mr. Hughes. Voglio capire che cosa ti fa piacere. Gli investigatori hanno scoperto tante porcherie. È una guerra tra bande e io non perderò. Lui non è il padrone del cielo. Migliorerà. SIGNIORI